Grande attenzione alla montagna in questo numero dell'amico del popolo. A partire dalla conta dei danni dovuti all'ondata di maltempo di fine ottobre e alla necessità ora anche di recuperare le risorse necessarie per intervenire quanto prima. Ma considerazione sulla montagna anche rispetto alle sue prospettive, alla necessità di uno scatto anche politico per darle la giusta considerazione. Queste riflessioni attinte anche al pensiero di Don Luigi Ciotti ma anche al ricordo di quanto negli anni è stato fatto per la montagna anche a livello legislativo a partire dalla Costituzione che provvede appunto un intervento specifico a sostegno della montagna. E la montagna torna anche in questo numero per gli aspetti sanitari. È stato fatto, è in approvazione infatti il nuovo piano socio-sanitario regionale e sono stati quantificati i bisogni della montagna. È stato riconosciuto un differenziale montagna perché un territorio specifico tra l'altro con la popolazione più anziana. Un riconoscimento giusto ma che ha bisogno certamente di essere confermato e anche integrato.